Di buon mattino è venuto a trovarci Monsignor Vincenzo Paglia, qui diamo il buongiorno e il bentornato. Presidente della Commissione Riforma e Assistenza Sociosanitaria Anziani ed è l'occasione per parlare insieme di un argomento che ci sta sempre a cuore. Domenica, lo diceva poco fa, grazie, sarà la giornata internazionale del malato e la categoria degli anziani è una categoria che spesso viene associata anche al non stare bene, alla vera necessità e soprattutto al non essere soli, Monsignor Vincenzo Paglia. Sì, io sono contento che quest'anno la giornata del malato ha questo titolo, non è bene che l'uomo sia solo, un'affermazione che è vera per tutti, però per gli anziani è più facile la solitudine, anzi io vorrei dire che ormai se c'è una condizione comune a tutti gli anziani, sia quelli che stanno bene, sia quelli che stanno male, è la solitudine. E allora ha fatto bene il Papa ad aggiungere la parabola del samaritano, essere prossimi, i più vicini a chi ha bisogno. Ecco, io credo che, anzi mi piacerebbe dire, salutando tutti gli anziani che ci seguono, che anche questa piccola trasmissione, ecco è un po' dedicata a voi, vi vogliamo venire a visitare a casa, per dirvi, io sono vecchio, sono anziano anch'io, ho 78 anni, quindi, ma è bene essere vicini gli uni agli altri. Oggi questa giornata, la giornata del malato domenica, ecco credo sia un insegnamento, un'esortazione perché nessuno resti solo, perché la solitudine è la cosa più brutta. Ecco perché credo che sia opportuno esortare tutti noi a non lasciare solo nessuno, particolarmente gli anziani. Non dimentichiamo che durante il Covid le vittime più numerose sono stati gli anziani. Perché però? Perché noi le avevamo già lasciati soli e quando è arrivato il virus se le è trovati per strada. Non protetti, non aiutati e ne sono morti più di centomila. Una guerra. Ecco perché abbiamo voluto quegli amici di Sant'Egidio spingere l'allora Ministro della Salute a creare una commissione, che io presiedo ancora, per la riforma dell'assistenza agli anziani. Il cuore di questa riforma è molto semplice. Noi vecchi vogliamo rimanere a casa nostra, aiutati e accompagnati. Io sono particolarmente lieto perché finalmente l'Italia ha una legge, primo paese al mondo, dove via via ovviamente, perché non si può fare con una bacchetta magica tutti insieme, via via noi vorremmo che tutti gli anziani italiani, siamo 14 milioni, siano ricordati, aiutati, sostenuti, magari anche favorendo piccole convivenze. Se quattro anziani stanno in case diverse, nello stesso quartiere e magari si riuniscano assieme, stanno meglio, si spende di meno, si fanno pure compagnia e perché no? Quindi questa legge prevede un cambio di cultura anzitutto, da parte di tutti noi ed anche degli stessi anziani. Dobbiamo aiutarci a vivere meglio questi 20-30 anni in più che la società che lo sviluppo ci ha donato. Papa Francesco ha detto che gli anziani sono alberi che continuano a portare frutto. Io vorrei ricollegarmi, Monsignor Paglia, non so se l'ha seguito a una storia che abbiamo ospitato questa mattina. Una signora, la signora Sandrina, a 86 anni, si è laureata e questo è un esempio, una dimostrazione che non ci sono limiti. Era ovviamente supportata dall'amore dei figli, dei nipoti e questo è fondamentale. È fondamentale perché quando c'è l'amore, quando c'è l'affetto, tutte le difficoltà si possono superare o almeno si dividono e si affrontano meglio. E poi mi piace anche ringraziare che lei ha sottolineato che noi entriamo nelle case delle persone e facciamo compagnia a tante persone. Io e Giacomo quando siamo un po' stanchi e tutta la squadra che lavora con noi siamo davvero contenti perché questo ci ripaga di tutti i sacrifici e dà un senso al lavoro che facciamo. Quindi io la ringrazio per averlo sottolineato. Io credo che sia davvero importante che gli stessi anziani come questa signora sentano che non sono scartati perché il rischio è che quando uno diventa vecchio o malato, come dire, si convinca che è di peso, che non c'è più niente da fare, che ormai è tutto finito, è un naufragio. E' esattamente vero il contrario. Ogni età ha la sua energia, la sua forza e anche la sua vocazione. Allora semmai noi anziani dovremmo avere quello scatto di dire che possiamo e dobbiamo aiutare le generazioni che vengono. Io le faccio un esempio. Io faccio parte, avendo 78 anni, nato nel 45, di quella che io chiamo la prima generazione di anziani di massa. Siamo milioni. Se noi, di questa mia generazione, non ci inventiamo una vecchiaia dignitosa, quando voi ci arriverete, se noi non l'abbiamo preparata, sarà un problema. Ecco perché allora semmai il futuro qual è? È quello che stiamo a fare qui. Un'alleanza tra generazioni. E questo permette a tutti noi di avere un Italia, un paese, una società che sia a misura della dignità di tutti. Ecco perché anche noi anziani, attenzione, dobbiamo riscoprire un compito da svolgere. Non dobbiamo subire. E io, dobbiamo fare qualcosa anche sul tema della pensione. Perché quando arriva la pensione uno è come separato dalla società. In me non deve essere così. Ecco perché con questa legge io vi auguro che pian piano la stessa cultura di ritessere le relazioni tra di noi è importante. Il 27 aprile, sabato, noi faremo un grande incontro a San Pietro con il Papa tra vecchi nonni e nipoti. Io invito tutti a venire perché dovremo stupire noi stessi e l'Italia che le due generazioni estreme devono insegnare ai più giovani e agli adulti che da sole si sta male. Stando insieme c'è una grande festa, una grande guduria mi verrebbe da dire. Ecco perché credo che questa giornata debba aiutarci a capire che dobbiamo visitarci gli uni gli altri per guarire da quella malattia che è la solitudine, che è più brutta del Covid e si guarisce in un modo solo, volendoci bene, visitandoci. E allora ricordiamoci 27 aprile alle ore 8.30 se non sbaglio. Tanto poi lo ricorderemo, c'è ancora un po' di tempo. Così come vogliamo ricordare quali sono le novità, lei ha fatto riferimento alla legge 33 del 2023, quali sono le novità che introduce e quali sono le potenzialità che potranno fiorire ancora di più. Allora, sono stati due i capitoli. L'uno è quello che viene chiamato la prestazione universale, cioè un aiuto agli anziani non autosufficienti. Il governo ha scelto che solo un gruppo, perché non ci sono le risorse, 25.000 anziani ultraottantenni non autosufficienti che riceveranno per ora un contributo di 500-600 euro per poter vivere in maniera dignitosa. C'è l'altro aspetto che è stato poco sottolineato, che è quello che dicevo poc'anzi, e cioè che l'Italia, governo, amministrazioni, strutture ospedaliere, istituzioni di volontariato, terzo settore, si prendono in carico tutti i 14 milioni di anziani perché restino a casa, perché siano visitati, perché quando si raggiunge 80 anni, ad esempio, un'equipe di medici, assistenti sociali, li possa visitare perché non accada più che magari qualcuno muore, ce ne accorgiamo dopo mesi. è un'assurdità. E poi, favorire il co-housing, e poi la mia intenzione è questa, creare dei centri diurni per fare scuola agli anziani. Noi nel secolo scorso ci siamo inventati l'infanzia e il maestro Manzio. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Noi dovremmo inventarci, questo è il mio sogno, un maestro per gli anziani. Per esempio, come ci si nutre? Perché abbiamo visto che la cattiva nutrizione crea disastri. Ci si ingrassa, ci si ammala, si spendono miliardi. Noi dovremmo dire invece, come ci si nutre quando si è anziani? Quando viene il caldo, come ci si comporta? Ecco, fare un po' di ginnastica, che è importantissimo, lo vediamo tutti. Una ginnastica non può essere quella di uno di vent'anni. Come si prendono le medicine? Cioè, quindi noi, o anche lezioni. Ecco perché questi centri dovrebbero aiutare noi vecchi a vivere trent'anni pieni. Non possiamo... Grazie. Buongiorno, signor Paglia. Torni presto, perché questo è un argomento che sta molto a cuore. Venga, venga, così salutiamo tutti insieme. Quindi salutiamo tutte le persone anziane che ci stanno guardando in questo momento. Questo applauso è per ognuno di voi. E per ognuno di voi, sappiate, noi vi diamo appuntamento naturalmente a lunedì mattina, le 7.30 con Di Buon Mattino. Ma c'è qualcuno che si prende cura anche di voi dal punto di vista della salute. E sta esattamente dall'altra parte dello studio. È Monica Di Loreto con il mio medico. Grazie. A te Monica. Grazie. 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 Grazie.